Rappresenta più del 35% del territorio nazionale, subisce squilibri economico-sociali dinnanzi ai quali è necessario un adeguato riconoscimento, misure di valorizzazione e di tutela perché questi sono luoghi di importanza strategica per l'intera nazione. Parliamo della montagna perché con il riconoscimento del disegno di legge e proprio dei giorni scorsi il via libera da parte del Consiglio dei Ministri ad una misura che punta al riconoscimento delle zone montane ed affronta quindi, in maniera concreta, il tema delle differenze territoriali. In esso sono contenuti provvedimenti che riguardano prima di tutto i servizi, quindi scuole e sanità prevedendo incentivi per chi vuole andare in montagna a fare l'insegnante oppure una professione legata alla sanità e poi tutte quelle attività legate all'economia quindi il riconoscimento delle attività che si svolgono in montagna principalmente l'agricoltura e quindi anche la valorizzazione da questo punto di vista dei territori montani, la salvaguardia di chi lavora in montagna e poi anche incentivi per chi in montagna vuole andare a lavorare specialmente se si tratta di giovani imprese quindi soggetti che hanno voglia di intraprendere un'attività economica in montagna. Tutto questo con l'auspicio che siano questi provvedimenti in grado di garantire ripopolamento delle zone montane e mantenimento di uno stile di vita che possa essere assicurato da un punto di vista sociale ed economico incentivi che insomma aiutino la montagna a guardare al futuro. Qual è l'accoglienza che viene data ad una proposta di disegno di legge come questa? Di fatto potrebbe davvero rappresentare una piccola rivoluzione se vogliamo? È un punto di svolta, riconoscere che le montagne sono territori particolari che hanno delle peculiarità e che debbono essere sostenuti con provvedimenti legislativi che possono garantire la permanenza dell'uomo ma anche la permanenza dell'uomo vedendosi garantiti i servizi vedendosi garantiti l'opportunità di lavorare in montagna è sicuramente positivo. Dare nuovi spunti anche per i giovani Soprattutto ai giovani sono dedicati provvedimenti che possono incentivare loro a svolgere attività economiche ma tra i vari presupposti c'è anche la presenza delle linee digitali quindi la banda ultralarga attraverso la quale è possibile promuovere iniziative promuovere idee, garantire il lavoro, la scuola e la sanità che sono tutti i presupposti affinché i giovani restino in montagna. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!